Chi ha delle responsabilità, chi può fare qualcosa, scendessi in campo, dicesse le cose come stanno, perché noi così non riusciamo più ad andare avanti. Non si arrendono i dipendenti delle crocefanesi. A poco infatti sono serviti i presidi e gli scioperi proclamati dai servizi di trasporto sanitario insieme ai sindacati per sensibilizzare cittadini e autorità sulla vicenda aperta dalla trasmissione televisiva Le Iene, il cui inviato Giulio Golia nel settembre scorso aveva fatto visita alla sede di Via Caduti del lavoro documentando presunte irregolarità nella gestione. Da allora gli autisti hanno lavorato in condizioni sempre peggiori e, misse ormai in ginocchio, hanno intrapreso delle azioni per esternare il malcontento causato dagli stipendi arretrati. Ma esasperati, dopo decenni di servizio, alcuni dipendenti hanno gettato la spugna inviando le lettere di dimissioni. Altri invece devono ancora percepire sei mensilità, comprese tredicesima e quattordicesima, una situazione diventata insostenibile. Ovviamente le difficoltà sono notevoli, dall'addirittura mettere la benzina nella macchina per venire a lavorare. Tralasciamo mutui, bollette e quant'altro. Abbiamo fatto le feste di Natale senza neppure un euro. Noi a questo punto siamo esasperati perché la situazione si protrae da troppo tempo, nessuno ci dà spiegazioni sul caso. E quindi noi stiamo valutando l'ipotesi e la necessità a questo punto ci obbligano al licenziamento in toto per attingere alla disoccupazione speciale pur di avere un reddito. Perché andando avanti così la situazione ovviamente non ha vita lunga in sostanza. Chiedono garanzie gli addetti delle ambulanze che ci raccontano dei continui rimpalli di responsabilità. Le risposte dicono forse arriveranno quando ormai sarà troppo tardi. Se dovessero davvero decidere di licenziarsi tutti il servizio non verrà più garantito e a quel punto si creerebbe un enorme disagio per l'intera collettività. Intanto l'Asura ha accettato di sostituirsi al privato nei pagamenti degli stipendi arretrati. Questo già è un bene però i pagamenti ancora non sono arrivati al contrario di quello che già si era potuto inizialmente già col dottor Bernardi e col dottor Orfeo Mazza che era l'80 e il 90%. Invece una telefonata di 3-4 giorni fa è una lettera fatta dal dottor Mazza che dice che ci pagheranno il 50% di quei pochi soldi che purtroppo fatturiamo noi direttamente all'Aso. Fra l'altro adesso state lavorando praticamente H24. Lavoriamo il doppio del lavoro di prima e veniamo pagati la metà da metà. Questo accade perché dal 30 novembre Solaris ha lasciato il suo incarico. Infatti la cooperativa di Carpi che aveva rilevato il 7 aprile scorso il servizio svolto da Croce Azzurra ha reso noto tramite legali che non avrebbe più svolto l'attività e avrebbe chiuso i battenti nella città di Fano. Il servizio ora viene coperto dalla Croce Verde. Che cosa vi dà la forza di continuare ancora? Che siamo da anche 40 anni qui a Fano e stiamo lavorando con serietà e stiamo facendo quello che bisogna fare. Però adesso non gliela facciamo più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.